Tutte le serate avremo dei momenti chiave nella nostra serata e in questa serata in particolar modo e questa serata in particolar modo avremo un collegamento, un collegamento un po' un po' particolare stasera, un collegamento un po' particolare questa sera e chiamare l'uomo nuovo, vediamo se c'è, vai con Skype Si fa desiderare un po' l'uomo nuovo, ma forse sta arrivando, forse sta arrivando, forse intuisco la voce Uomo nuovo ci sei? Ti sentiamo ma non ti vediamo Mi sentite? Adesso cominciamo a sentirti e adesso ti mando in diretta Eccoci qua, l'uomo nuovo ci ha... grazie uomo nuovo per... che brutto Questo è un momento che entrerà nella storia delle dirette Uomo nuovo, questo bagliore sul volto da cosa deriva? La felicità di stare con voi Ah bene Sono felice È una felicità che nasce dal di dentro Quando tu abbagli è segno di felicità È una felicità intestinale Ah ho capito E quindi volevo sapere... come... perché hai voluto... hai scelto proprio Ita Music per farci questa rivelazione tramite questa playlist di autore? Perché proprio noi siamo stati scelti? Perché non potendo andare in chiesa noi dobbiamo rimanere in casa ad ascoltare le parole che ci vengono dall'alto e anche dal basso Bene, in tutto questo coacervo di parole dovresti mutare la diretta Facebook perché sennò andiamo in effetto Larsen Aspetta che chiudo tutti i boccaporti Chiudi tutti i boccaporti Sennò andiamo in effetto Larsen Larsen è un tuo concorrente che non vorrei dire Suona un po' nord europeo Larsen come nome Il tuo autore preferito Allora, parliamo di questa playlist Immagini che non avremmo mai voluto vedere, dice Alberto Grandi Ciao Enrico, dice benevolmente Urrique Saluto Urrique Questi bagliori arrivano oltre il Brennero, mi fa piacere Assomiglia a quello, dice Massimo Borghi Donata non ridevo così da una vita Larsen è un nome olandese, mi conferma Federico Sì, infatti fa molto effetto Larsen Fa molto effetto Larsen Allora, parlaci di questa playlist e del significato recondito di questa playlist d'autore De Gregori ci mette di fronte al dubbio se servire Dio o Satana Lui lo risolve dicendo fate voi insomma Ecco, quindi lascia De Gregori come Fonzio Pilato in sostanza Sì, però ci lascia intuire che non abbiamo molte chance Nel 95-96% dei casi serviamo Satana Bene Dopodiché abbiamo sentito una bellissima canzone di Baglioni Baglioni invece è più sul discorso diciamo vegano È una canzone vegana È una canzone vegana È una canzone vegana Riscoprire diciamo l'amore per la natura Passando appunto dagli astri nascenti Quindi il sole e la luna attraverso le verdure e poi tutti gli animali che ne conseguono Però diciamo che oggi come oggi se si deve fare proselitismo Tornare a fare proselitismo partendo da fratello sole e sorella luna bisogna cominciare la conversione dei vegani Ecco, dopo questa diretta Ita Music non sarà più la stessa dice Alberto Grandi Vogliamo vederlo ballare il dada umpa dice Paolo Ghignone Grazie Alberto Ho le lacrime donata E poi c'è anche Stefania ma mi è comparsa una notifica che non mi fa leggere quello che ha scritto Questo lo accolgo come un'apripista Non ce la faccio a scrivere sto ridendo troppo dice Federico Ecco bene Noi manifestiamo Lei uomo nuovo manifesta felicità illuminandosi Ricordo a tutti che voi mi vedete in queste condizioni perché mi sono cresciuti i capelli di questa quarantena Però il miracolo ha voluto che mi siano cresciuti i biondi Quindi devo ringraziare È un segno questo È un segno È un segno anche per avvicinarsi ai paesi nordici Germania, Olanda Dobbiamo cominciare ad avvicinarsi Cominciamo a diventare biondi per loro Il cambio di euro noi diventiamo anche biondi Non è un gran sacrificio tutto sommato No Ce la possiamo fare Dopo la terza canzone in scaletta è quella di Se non erro di Mettiamo Battiato No, facciamo che la diciamo dopo Spiegano i Battiato Poi te la dico, te la ricordo io Battiato invece Battiato invece su indicazione di Murgi Si è sempre messo a cercare qualcosa Va bene, prima le parole strane Prima le idee Però nell'album fisionomica forse ha trovato la sua dimensione E ti vengo a cercare Ma Dio giustamente non si è fatto trovare E quindi ha pubblicato un sacco di album Anche successivamente alla ricerca appunto della sua dimensione Ecco quindi Lui pubblica gli album per cercare qualcuno che lo faccia cantare poi O in paradiso o all'inferno Probabilmente in paradiso Anche se farà una lunga camera d'attesa Insomma la sala d'attesa Perché prima di spiegare come mai Deve andare in paradiso San Pietro avrà serie difficoltà Vorrà un'autocertificazione Vorrà avere un'autocertificazione E voi mi immaginate l'autocertificazione di Battiato Scritta da Sgalambro Scritta da Sgalambro Esatto È sulle 6 o 7 pagine Quindi sarà durissimo insomma questo accesso Al paradiso Però glielo auguriamo Nonostante appunto la murgia vorrebbe qualcos'altro Enrico Biondo sei fighissimo dice Luana Ma quindi uomo nuovo Lei si chiama Enrico? No no Enrico era il nome che avevo nell'altra vita Ah ok no mi sembrava Quella dove non c'era Non c'era abbastanza illuminazione Io sono un illuminato Ok Io sono Se volete Questa è una bella Una bella sensazione Io voglio anche Voglio trasmettere sicurezza Voglio trasmettere sicurezza In effetti ci sentiamo più sicuri Poi mi sembra che andiamo però Su un versante un po' più di sacratorio Con la playlist Andiamo verso un gruppo Che non le manda a dire Ecco Ecco le manda a dire E Elio negli anni 90 Fece di tutto per farci allontanare Dalla fede Con le sue canzoni Lo trovo grave Questo è grave Ma adesso siamo ritornati Sono passati Luana Sono sbagliato ancora Ho chiamato ancora una volta La donata Luana È un casino col cognome Vai scusami No nella canzone Nella canzone che manderemo in onda È un put purì di richiami Alle migliori canzoni Diciamo Del repertorio Diciamo scolastico Eucaristico Eucaristico Da resta con me Di Modugno Che canto questa canzone Appunto Durante il suo primo matrimonio Fu cantata appunto Da Domenico Modugno Poi c'è Patrizio Hernani Che è il nome italiano Di Patrizio Hernandez Che diede appunto Lo spunto a Elio Fabrizio Malvezzi Chiedigli che cosa fumo Perché ne voglio un po' anch'io Io giro la domanda All'uomo nuovo No io tengo acceso il gas E basta in casa E poi chiudiamo No no vai 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 E poi chiudiamo con una chicca Con una chicca Sì Una chicca Quella della Petra La Petra Un pezzo sconosciuto Un pezzo di Petra Magoni Petra Magoni Che è presentata Da Chiambretti A Sanremo Quindi Quei poveri cantanti Che furono Diciamo perculati Da Chiambretti In quell'edizione lì Petra Magoni Che fu anche Che è stata moglie Di Di Bollani Di Bollani Di Bollani Di Bollani E ha fatto una canzone Che ho avuto modo Di ascoltare Che Dà Molti spunti Per Terminarla Al più presto Una separazione Ecco È stata oggetto Adesso sono separato È stata oggetto Della separazione Dopo quella canzone Penso che Il povero Bollani Si rivolse I reni grandi Dicendo Con te faremo cose Dai reni grandi Facendo un flashback Adesso torniamo Alla canzone Che lanci Che invece È tratta Da un disco Che si intitola L'albero E L'albero Certo Il mitico Il mitico Il mitico Giovanotti Che fece Questa canzone Una canzone Panica Dove sostanzialmente Tutto fa brodo Insomma Buddha Basta che stiano In mare E la canzone Va Il titolo Della canzone Questa è la mia casa La facciamo partire La facciamo partire Lei uomo nuovo Non la sente Questa canzone Sentirà solo i commenti Ma lei nel frattempo Si può illuminare Come vedo che ha già fatto Io continuo a tenere L'illuminazione Sì esatto L'illuminazione È fondamentale Per tutti noi Per favore Questa canzone Aveva un video Su una zattera In mezzo al mare Questo Ci rappresenta Da uomo nuovo In questo momento Sì Come Castaway Come Robinson Crusoe Ci siamo tutti Alla ricerca Di un'isola Dove approvare Sostanzialmente È l'isola Che non c'è Il problema È che non c'è Non c'è Non c'è Quest'isola L'ha detto anche Benato Non si riesce a trovarla Però Il viaggio È Un modo Comunale Per Non rimanere Fermi Nelle proprie Convenzioni Fare un viaggio Facendo uso Di acido Disergico È un sistema Per cambiare La propria condizione In questo momento Non possiamo fare Tanti viaggi Se non appunto Quelli che ci consente La nostra mente La nostra conquista Vai con Giovannotti Dove si va Dove si va Uomo muovo Uomo muovo Io voglio Enrico Ettore Alberini Sul mio comodino Dice Luana Ho fatto apposto Di volta che sono stato Su un comodino Non vogliamo Saperla Proteggimi Sono qua Enrico Lelio Mantovano Dice Fabrizio Dice Fabrizio Malvezzi Se fosse vivo Basaglia Si pentirebbe Di quello Che ha fatto Dice Alberto Grandi Io sono per un Rimetti Ciao Giulia Conosco a memoria Il testo Nemmeno lo sapevo Fabio Perché Così Perché certe cose Sono dentro di noi Incubi tutta notte Dice Claudio Falmerini Secondo me Basaglia Riderebbe con noi Federico Io sono d'accordo Con tutti Con tutti E ruola giù Si un alto Fino al cielo Questa è la mia casa Per cortesia Basta Bastoni Sono 5.24 La canzone Dura quel che Deve durare Insomma Facciamolo affondare Facciamolo affondare No no A Itamusic Non si tagliano i pezzi Ciao Mary Andiamo No non si tagliano i pezzi Riteniamo che questo sarà Come dire Sarà uno dei fattori Che si farà Concedere I Itamusic bond La casa dove è La casa è Itamusic O no Eh Io Anche l'uomo nuovo Ha voluto Rivelarsi a noi Tramite La nostra diretta Facebook Petizione per non Concludere mai Questa diretta Dice Paolo Fatelo tornare Che devo chiedergli All'amicizia Now Ma dov'è Maurizio Dov'è Maurizio Questo potrebbe essere Il nostro tormentone Dov'è Maurizio Sta preparando le monoporzioni Per Pasqua Eh ma è Facebook L'ha bloccato Ha bloccato Maurizio Sì ha bloccato Maurizio Non ho capito perché Ma l'ha bloccato Maurizio Avrà detto qualcosa Di sconvegliente Eh non Se la sarà andata a cercare Se l'è andata a cercare E questo era Giovanotti Questa è la mia casa Eh proposta Da L'Uomo Nuovo Il collegamento di Questa sera E che firma La prima playlist Mi è venuto Mi è venuto Un mancamento Ecco insomma Per Per Tanta bellezza Eh La prima playlist D'autore di Ita Music Uomo Nuovo Noi siamo Noi siamo come dire Onorati Riconoscenti E E spero anche un po' Illuminati Da Da questo intervento E da questa Rivelazione Che ci porta Nel mistero della Pasqua Direi col piede giusto Ecco insomma Non so se Possiamo dire così Ecco Anche perché Avendone Si parla di lavanda dei piedi Avendone due Mal che vadane Se uno dovesse Non funzionare Possiamo tenere l'altro Insomma Usiamo l'altro Quindi Il Signore ci ha Ci ha raddoppiato Alcune funzioni E tutti possono controllare Sul proprio corpo Cos'è che è doppio Esatto E a cominciare Dalle cose più Interessanti E quindi Si sa Si sa che si può fare A meno Purtroppo invece La bocca è unica E' uno dei difetti Che noi cercheremo Di risolvere Nella prossima creazione Che ci sarà A settembre Ottobre Di quest'anno A settembre Con il nuovo decreto Si con il nuovo DPCM Si Ci rifaremo tutti Insomma Molto più maneggevoli Per uscire E con dei distanziatori Inseriti Da almeno Un metro e ottanta Insomma Quindi avremo Delle speciali Diciamo Protuberanze Nel proprio corpo In modo che potremo Vivere Socialmente distanti Ecco Queste sono parole Di speranza Che io Sono contento Che si siano rivelate Proprio in Ita Music E spero che tutti voi Avvertiate Questa contentezza Come la stiamo avvertendo noi Per l'intervento Dell'uomo nuovo Io sono per il distanziamento Sociale Avendo tutti questi strumenti Anche noi Dopo averti visto Siamo Siamo per il distanziamento Sociale Io credo che Siamo più convinti Il futuro è nel distanziamento Sociale Sì Io credo che Potremmo lavorare Su questo tema Aumentando appunto Il diretto E senza altro Aumentando la banda Insomma Aumentando la banda Sì Serve più banda Che stare distanti Socialmente Serve più banda Serve più banda Oggettivamente Con questa richiesta Forte Alle autorità politiche Noi salutiamo L'uomo nuovo Grazie a tutti Torna in diretta Uomo nuovo Quando vuoi Torna in diretta Mi illumino completamente E sparisco nel vortice Ciao Uomo nuovo